E' indubbio che ci sia soddisfazione fra gli amministratori ma anche fra i cittadini per questa decisione del TAR. Ne ha parlato anche il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Sentiamo. E' un bel successo dei comuni, della Regione che è stata insieme ai comuni e dà un significato anche alla proposta di riunire un tavolo con il governo e con poste per trovare le soluzioni. Perché un conto è sedersi al tavolo con gli uffici postali chiusi e un conto invece è sedersi con gli uffici postali aperti e cercare di trovare una strada che contempli le esigenze di razionalizzazione e soprattutto con le esigenze di servizio e bisogni dei cittadini che i sindaci hanno ben saputo rappresentare. Io stesso avevo chiesto a poste e al Governo nazionale di non procedere alla chiusura prima del raggiungimento di un accordo. Questo pronunciamento del TAR risponde e obbliga a poste a non chiudere e quindi il tavolo può trovare soluzioni che siano rispettose delle esigenze di tutti. Credo che poste si stia anche convincendo che ha bisogno di avere un rapporto con regione e con comuni perché noi abbiamo a trattativa diretta molti rapporti con l'azienda poste e se l'azienda poste decidesse che non tiene conto del parere della regione e del parere dei comuni è giusto che questi rapporti siano sottoposti a regolare le procedure di gara e magari si facerebbero avanti tanti altri.